Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Stampa e Vangelo. Ricominciamo la settimana, lunedì 22 ottobre del 2018. Lunedì 22 ottobre è San Giovanni Paolo II. Ovviamente il nostro pensiero va al caro Papa Voitiwa, come va a Francesco, che ha ricordato San Giovanni Paolo II, proprio mercoledì nell'udienza che ci ha visto protagonisti durante la presenza in Piazza San Pietro, appunto mercoledì, vi ricordate che Santo Padre ha citato proprio il giorno dell'insediamento di San Giovanni Paolo II, era il 22 ottobre 1978 e il mondo fu scosso da quella straordinaria orazione, quella omelia che ricordiamo, non abbiate paura, aprite, spalancate le porte a Cristo. fu un momento di bellezza enorme, ricordiamo, io ero bambino, ma ricordo perfettamente, i miei genitori mi avevano portato in San Pietro per l'insediamento di Papa Giovanni Paolo I, tanto saluto Lili Cosso che ci saluta dall'ospedale, la diventano oggi, benissimo, è una ottima notizia. ero per Papa Giovanni Paolo I all'insediamento, quindi ancora scosso pochi giorni dopo da bambino per la morte del Papa, immaginate quel 78, io lo ricordo in maniera estremamente vivida, il sequestro di Moro, la morte di Moro il 9 maggio, la morte di Papa Paolo VI, San Paolo VI, abbiamo fatto l'udienza del mercoledì proprio sotto lo striscione di Paolo VI appena canonizzato, chi era in piazza se lo ricorda, la morte di Paolo VI, il conclave che elegge Papa Luciani, la morte di Luciani dopo 33 giorni, la nomina del Papa venuto da molto lontano, addirittura dall'est europeo, poi l'insediamento e sicuramente, immaginate quei cinque mesi nella testa di un bambino, dove nella sua città, perché questa era la mia città, moriva ucciso il presidente della democrazia cristiana, morivano due papi, se ne leggeva un terzo nell'arco di appena quattro mesi, e la frase ogni morte di Papa diventava molto diversa, arriva il 22 ottobre e San Giovanni Paolo II da San Pietro turba il mondo con quel grido, non abbiate paura, spalancate, aprite, anzi spalancate, mi ricorda Flaminio Longobardi, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, questo Papa giovane che a un certo punto rompe completamente il protocollo, forse dopo, se mi riesce, posto il video, e dopo una stagione in cui, ricordate, io ho questo eco, la stagione del 68, la stagione degli anni di piombo, la stagione in cui essere cristiani, essere cattolici, c'era proprio qualcosa da marginalizzare, in cui si andava in giro con le P38, in cui c'erano le manifestazioni di piazza sempre e solo, contro la Chiesa, la democrazia cristiana, contro i cattolici considerati strumento del potere, potevi essere cattolico solo se ti piegavi e diventavi catto comunista, ebbene, in quel clima davvero plumbeo per i cristiani, in Italia, uccisi, nella mia storia del terrorismo che ho voluto donare a Papa Francesco, c'è proprio questo, i cattolici venivano uccisi in Italia, specie quelli che si esponevano sul piano politico, 441 morti in quegli anni, bene, in quel contesto Papa Giovanni Paolo II, nel giorno del suo insediamento, rompe completamente il protocollo, e vedete, se riesco posto il video, perché vedete proprio il panico nelle guardie, nelle varie guardie del corpo, e irrompe nella piazza, va a piedi, attraversa tutto il sagrato, e va verso la folla e innalza il suo crocifisso come fosse uno stendardo, proprio la croce di Cristo come stendardo di un richiamo alla piena consapevolezza dell'essere cristiani, una scena davvero indimenticabile, tutti ricordano il non abbiate paura, ovviamente lo straordinario discorso, ma la fisicità, la gestualità del Papa che rompe il protocollo completamente, ricordatevi che il Papa nel suo insediamento era una volta e non tanto tempo prima consegnato con l'assedia portata a spalla e con il triregno, Giovanni Paolo II non ha nulla di tutto questo, e da uomo nudo si lancia, vorrei dire, davvero verso il suo popolo con questo crocifisso innalzato appunto come uno stendardo, e quella piazza dove poco tempo dopo, ricordate, non passeranno tre anni da quel giorno e nella stessa piazza anche Papa Giovanni Paolo II sarà colpito da colpi di pistola, insomma, sono storie che noi ricordiamo adesso con un po' di esoticità, sembra essere passato, storia, ma è storia recente dell'Italia e per chi è romano della nostra città. Cioè, io sono cresciuto, lo dico sempre questo, e forse fa parte anche del tipo di militanza che ho scelto in questa fase della mia vita, sono cresciuto in una città dove ogni giorno c'era un morto ammazzato per ragioni, chiamiamole di tipo politico, in cui i comunisti o i fascisti uccidevano in maniera tragica e barbara delle persone che andavano a lavorare, di solito era sempre così, persone che andavano a lavorare, poliziotti, carabinieri, magistrati, giornalisti, politici, nella stragrande maggioranza dei casi cattolici e cattolici militanti, spesso, insomma, e forse questo è stato un elemento della formazione di averlo vissuto proprio ogni volta a pochi metri da me, a pochi chilometri da me, averlo vissuto anche nei colpi di pistola al Papa ha formato l'idea che noi davvero dobbiamo essere pronti all'estremo sacrificio se vogliamo testimoniare la verità. Oggi parlerò di un po' di cose che abbiamo fatto anche noi il popolo e la famiglia, non voglio fare enorme enfasi, ma insomma, l'attività che abbiamo svolto a Milano in questo fine settimana è stata di enorme rilevanza alla contestazione che abbiamo subito. Mi ha poi molto colpito una puntata di ieri Domenica Inn in cui un sacerdote provava a difendersi da una serie di folli affermazioni. Domenica Inn programma del pomeriggio di Rai 1, lo dico perché vedo Danilo Leonardi e vorrei chiedermi con lui se era mai immaginabile che dieci anni fa a Rai 1 in prima serata non dico quarant'anni fa quando è stato eletto Papa Giovanni Paolo II ma dieci anni fa se era pensabile che Rai 1 al pomeriggio mettesse in scena ma neanche dieci anni fa cinque anni fa guardate voglio dire in scena una gazzarra in cui si celebravano le coppie omosessuali che si spartiscono i figli e il povero prete che era presente è stato massacrato dalla Venier da Luxuria messo in mezzo insomma sulla rete ammiraglia di Rai 1 nel pomeriggio in cui le famiglie si rilassano e guardano la televisione questo è davvero dittatura del pensiero unico davvero spaventoso il modo anche con cui veniva proposta dalle varie Alba Parietti Luxuria Mara Venier quel tipo di declinazione del concetto di famiglia volendo obbligare persino il sacerdote presente a dire che andava bene così e questo è davvero insopportabile noi penso che dobbiamo fare siamo l'unica voce sappiate lo Stampevangelo è l'unica voce che oggi parlerà contro Domenica Inn non ce ne saranno altre nel diciamo nel mondo della comunicazione ne parleremo solo noi anzi se potete non l'ho detto fate un like alla diretta per favore un like alla diretta condividetela sul vostro profilo e se potete prendete il link e lo fate arrivare a tutti i vostri contatti Messenger e Whatsapp affinché si veda quello che stiamo dicendo e facendo parleremo anche del caso del PDF di Milano e del modo con cui i giornali hanno raccontato la vicenda del PDF Milano soprattutto Repubblica falsificando completamente le notizie ed è davvero impressionante per certi versi noi oggi parleremo dunque di meccanismi mediatici siamo a Stampe Vangelo parleremo di come i giornali e anche la TV utilizzano notizie che sono in realtà da declinare nella maniera vera invece di declinarle secondo verità le declinano secondo ideologia questo è il tema cruciale della puntata di oggi e quanto questo possa avere senso e quanto questo dovrebbe spingere noi a essere quelli che ovviamente ribaltano il punto di vista almeno qui a Stampe Vangelo ci proviamo Orlando Cageggi mi chiede Mario la croce si trova in edicola no ma la croce è un quotidiano digitale per abbonati un vero e proprio quotidiano sono pagine da sfogliare ma le inviamo solo ai nostri abbonati in forma digitale dunque chiunque è connesso a Facebook ha sicuramente una e-mail e dalla e-mail si accede all'edizione digitale del nostro quotidiano appunto che esce tutti i giorni e stiamo lavorando oggi al numero di domani che è 800 e passa chi si abbona peraltro anche l'archivio di tutti gli 800 numeri della croce tutta la nostra storia ricordiamo per abbonarsi alla croce www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora la retrocessione del pensiero cattolico nella comunicazione è una realtà evidente dice Danilo Leonardi che lavora in Rai quindi sa bene di cosa stiamo parlando stampa il Vangelo non comincia senza aver letto il Vangelo dunque condivisione se potete della pagina e della diretta in questo momento per far ascoltare anche un Vangelo molto bello e molto importante per certi versi molto collegato peraltro al pontificato di San Giovanni Paolo II se fate la condivisione in questo momento più persone potranno vedere e ascoltare la parola di oggi siamo nel dodicesimo capitolo del Vangelo di Luca ricordiamo sempre nel Vangelo di Luca i versetti sono quelli che vanno dal 13 al 21 in quel tempo uno della folla disse a Gesù maestro di a mio fratello che divida con me l'eredità ma egli rispose o uomo chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi e disse loro guardatevi e tenete lontano tenetevi lontano da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende mai dai suoi beni disse poi una parabola la campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto e gli ragionava tra sé che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti e disse farò così demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e lì raccoglierò tutto il grano e i miei beni poi dirò a me stesso anima mia hai a disposizione molti beni per molti anni riposati mangia bevi e datti alla gioia ma Dio gli disse stolto questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita è quello che hai preparato per chi sarà così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio questa è la parola del Signore di oggi terribile spezza davvero le convinzioni borghesi del nostro tempo accumula 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 cerca ricchezza l'unico vantaggio è nel denaro stai lì prendi denari e accumula denari perché lì l'unica cosa che muove la tua testa è come farò altri denari dove metterò dove stiperò poi tutti questi denari stolto stolto dice la parola di oggi stolto la verità è altrove la verità non è nei beni non è nei denari non è nell'accumulazione questa è l'espressione accumulazione fa parte di ripeto del Magistero di San Giovanni Paolo II l'attacco a un certo capitalismo ricordatevi la centesimus annus enciclica che va andrebbe davvero ridetta in questi tempi una parola davvero forte importante quella di oggi che racconta sempre un vangelo tutto diverso da quello che raccontano fuori di qua del vangelo del volemose bene siamo tutti amici non è così insomma il vangelo è un richiamo continuo a quanto siamo stupidi questo è secondo me la sintesi migliore della parola del Signore quanto siamo ciechi e dunque stupidi inevitabilmente dicevo siamo stati protagonisti per certi versi a Milano di una presenza un presidio che abbiamo fatto sulla metropolitana milanese una sfermata della metropolitana è stata dipinta di arcobaleno e con la scritta pagata da Netflix questo gigante della comunicazione mondiale secondo cui Rainbow is the new black facendo eco alla serie televisiva Orange is the new black dove i protagonisti sono due lesbiche dunque insomma tutta la tematica pagata lo ripeto da Netflix tutta la tematica voluta dal comune di Milano giunta di centrosinistra era mettere una sorta di monumento obbligatorio che però era fermata dalla metropolitana dove passano tutti i milanesi per forza alla ideologia LGBT attraverso i colori che tale ideologia rappresentano noi siamo andati a fare un presidio per dire ai cittadini milanesi la nostra opinione e il nostro dissenso ora quello che è successo al di là della contestazione della presenza di gruppi organizzati allora Repubblica ha scritto ed è interessante perché c'è il link dell'articolo di Repubblica che mette il primo titolo del pezzo che è stato scritto e non l'hanno modificato per cui si vede il titolo Mirco De Carli che ho visto in diretta ha il link perché me l'ha mandato lui per primo l'articolo di Repubblica era intitolato originariamente Adinolfi a Milano contestato dai passanti questo titolo riusciva a contenere in cinque parole tre bugie perché Adinolfi non era a Milano Adinolfi non era a Milano Adinolfi non è stato contestato dunque perché non era a Milano e quelli che contestavano in realtà il presidio del PDF non Adinolfi non erano passanti erano gruppi organizzati che erano stati mandati lì apposta dal giorno prima che c'era un cancan sulle varie testate del mondo e le GBT per disturbare e non far tenere il nostro presidio riescono a fare un titolo ripeto prendete il link se Mirco riesce a prenderlo me l'ha mandato via chat il link è impressionante perché del titolo sapete i link hanno le parole chiave del titolo è il titolo completamente falso è completamente inventato allora da un tempo perché perché il giornalista di Repubblica non c'era ovviamente non è successo che Repubblica ha trascritto ciò che ha visto no la lobby presente dentro Repubblica ha mandato la sua velina al giornalista di Repubblica che doveva trascrivere ciò che la lobby indicava senza che il giornalista avesse visto nulla il giornalista inizialmente ha proprio scritto Adinolfi contestato dai passanti a Milano Adinolfi non c'era non è stato contestato non erano passanti erano un gruppo che era venuto deliberatamente per insultare spintonare rendere impraticabile il nostro il nostro presidio alla metropolitana milanese per questo sono intervenute le forze dell'ordine antiderivata la questura sollecitata anche da Nicola Di Matteo la DICOS è arrivata di mezzo eccolo qui il link di Repubblica eccolo qui Adinolfi manifesta contro la stazione Arcobaleno contestato dai passanti ripeto poi Gay.it ha scritto il flop che flop era un presidio siamo andati là in una ventina di persone ovviamente Repubblica ha scritto dieci perché secondo loro la dinamica è che c'era il nostro presidio gente passava e ci insultava la cosa che è successa veramente non era una manifestazione non poteva essere un flop era un presidio siamo andati lì con 20 militanti da tutta la Lombardia organizzati e con un gazebo distribuivamo del materiale delle persone organizzate con le bandiere vestite con tutti i crismi del mondo LGBT LGBT baciandosi esplicitamente rollandosi canne davanti a noi hanno inscenato la cazzarra per insultare in maniera pesantissima il nostro presidio che non ha reagito e complimenti davvero un applauso ai militanti dirigenti del PDF che non hanno reagito alle provocazioni per difendere il presidio è arrivato un blindato non tre agenti un blindato delle forze dell'ordine con gli agenti che hanno protetto il nostro diritto di parola che ci voleva essere negato ora vedete fanno sempre storie su i social come sono violenti andate a leggere la violenza che c'è sotto il post i due post che ho dedicato ai fatti di Milano il giorno prima e il giorno dopo e lì la violenza è evidentissima gli insulti ovviamente quelli come il solito sulla stazza fisica le cose più orrende non c'è stata mezza riga Repubblica non ha scritto mezza riga dicendo oh tra l'altro ha riportato il post ha preso il post e l'ha riportato ma mica ha trascritto gli insulti violentissimi presenti sul post quindi il giornalista di Repubblica non ci ha andato non ha sentito gli insulti di quelli che non erano passanti anzi i passanti ci difendevano rispetto alle violenze di queste persone organizzate lo ripeto poi leggeva perché il giornalista di Repubblica ha pubblicato il post che ho scritto io in difesa del pdf Milano ma non ha mica citato le valanghe di insulti più vergognosi molti mi chiedono perché tieni il profilo aperto lo tengo aperto perché così si vede così si vede e così si vede così si capisce chi sono questi Piero Chiappano protagonista della presenza del blindato ci racconta è venuto prima un agente della Ticos è stato con noi dieci minuti poi ha chiamato il blindato perché la situazione si faceva pericolosa è andata così i fatti sono evidentissimi a tutti siamo stati lì con un presidio lo ripeto non era un'anniversazione era un presidio c'è un gazebo c'era fin troppa gente per un gazebo perché eravamo 20 distribuiamo materiale siamo stati aggrediti insultati è arrivato un agente della Ticos ci ha protetto prima lui ha chiamato un blindato perché la situazione era pesante allora se la questione è questa come si fa a raccontare dicendo flop contestato dai passanti i passanti ci difendevano il totale contrario di quello che stanno raccontando di quello che ha raccontato Repubblica devo dire la verità perché gli altri giornali siamo riusciti a uscire sul giorno su Avvenire abbiamo fatto poi un'iniziativa con altri frammenti del cattolicesimo politico impegnato al Palazzo delle Stelline con Mirko De Galli quella iniziativa è andata su Rai 3 insomma abbiamo fatto un grandissimo lavoro di comunicazione Repubblica e le varie testate del mondo LGBT hanno ovviamente invece fatto il lavoro che fa la lobby il lavoro che fa la lobby qual è? non c'è la verità la verità è cancellata maiuscolo minuscolo come volete la verità non esiste più la cancelli e mandi la velina con non l'interpretazione della verità qualcuno ha detto hanno mistificato no con la falsificazione cioè proprio con le notizie false completamente false completamente false che partivano da un titolo ripeto guardate il link che era talmente falso che rimane lì evidente a vergogna di quel giornalista che l'ha scritto ad in orfi contestato dai passanti a Milano non c'ero non sono stato contestato non erano i passanti erano eventi organizzati evidentemente il meccanismo mediatico vorrei fosse svelato d'accordo vorrei fosse svelato come funziona tu hai un amico ai giornali la lobby agli amici ovunque ovviamente a Repubblica tu usi la lobby per fare propaganda sulla tua posizione contro l'avversario utilizzando il manganello mediatico poi questi sono gli stessi che si arrabbiano con Salvini dicendo che è fascista ma guardate che il meccanismo è fascista o comunista è la Pravda o il popolo d'Italia la stessa cosa è lo stesso tipo di meccanismo identico il fatto non lo racconto c'è una tesi sostengo ideologicamente la tesi il fatto lo cancello e lo racconto falsificandolo con i meccanismi e le notizie che mi invento e chi se ne frega tanto il popolo la tua famiglia è poca cosa non c'è nessuno che salzerà difendoci anzi è uscito un articolo neutro di Avvenire piccolino su Avvenire di Milano ma almeno lì qualcosa è uscito di solito sarebbe stato il silenzio invece sono cambiate un po' di cose da mercoledì a oggi allora il dato vorrei che fosse chiaro e questo ci spiega anche come funziona domenica inni il giorno dopo quando tu metti la Francesca Venditti la lesbica separata con i figli separati la storia di Michel Bosè metti Maravenier metti Alba Parietti metti poi un povero prete un po' così e lo metti in mezzo e costruisci un bailam sul fatto che quella è una famiglia come le altre quella di Michel Bosè cioè una famiglia che prende i fratelli li spacchetta a secondo della proprietà e li manda uno in Messico l'altro in Spagna 5-7 anni e questo è normale non si può contestare non si può contestare non si può dire vedete che cazzo produce il fatto che trasformate le persone in cose e i bambini in oggetti di comprovendita con luce che uno si porta il tv al plasma in Messico e l'altro si porta l'aspirapolvere senza fili in Spagna tanto è la stessa cosa bambino aspirapolvere senza fili altro bambino e tv al plasma e non possiamo dire niente perché se dici qualcosa e provo che inneschi una riflessione gli prende il panico perché ragionate sul fatto se noi fossimo gente che dice che l'asino vola ma perché c'è tutta questa contestazione centinaia e centinaia di condivisioni di post di commenti sul post del pdf di Milano che ho difeso sul mio profilo perché 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 noi tocchiamo le viscere della verità se noi dicessimo l'asino vola se noi fossimo i rettiliani o i pastafariani non ci farebbe questa attenzione loro sanno che noi diciamo cose che se evocate il popolo sente come vere perché sono verità con la v maiuscola verità con la v maiuscola e non te la possono far proclamare la verità altrimenti le persone la capiscono la verità perché è immediata è evidente è comprensibile a tutti e noi diciamo cose comprensibili a tutti che è in atto una condizione orwelliana in cui la dittatura del pensiero unico vuole far pensare che sia sano ciò che è folle sia razionale ciò che è totalmente irrazionale sia giusto ciò che è assolutamente ingiusto e il fatto che noi lo diciamo con questa nettezza non è sopportabile non è sopportabile e allora al vero devono contrapporre l'enormemente falso l'assolutamente falso l'inventato questo è il meccanismo dei media che noi in un luogo che si chiama stampa e vangelo che cioè contrappone questo meccanismo alla verità con la v maiuscola non possiamo che denunciare lo denunciamo da qua questo è il luogo dove è possibile fare questa denuncia non ci sarebbe stato concesso farla a domenica inna non ci viene concesso farla a repubblica questo è il luogo questo è il movimento il popolo della famiglia è questo movimento che come dice Giovanni Fiori in questa fase non è possibile non farci odiare non so se odiare è la parola giusta io non credo che noi siamo travolti da odio noi siamo in realtà travolti da una reazione viscerale di persone anche i nostri virgolette nemici che in noi riconoscono il fatto di saper dire la verità e dunque ci considerano pericolosissimi non credo che ci odino credo che vogliano ridurci al silenzio in una contrapposizione che essendo una contrapposizione pubblica utilizza le leve proprie della comunicazione pubblica per zittire cioè gli strumenti mediatici noi ci difendiamo attraverso questo piccolo strumento che abbiamo ma che oggi anche grazie alle vostre condivisioni ai vostri like possono costruire una dimensione di consapevolezza perché migliaia di persone certo non saranno le 190.000 copie che vende Repubblica ma un segmento di quei 190.000 sì perché oggi questa puntata avrà comunque la possibilità grazie alle vostre condivisioni ai vostri like di essere eseguita da migliaia di persone Paola Caserico ricorda il versetto evangelico che cito sempre hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi ma vorrei al di là di questo che fosse chiaro il meccanismo perché se noi comprendiamo il meccanismo allora possiamo fare quello che ci ha insegnato San Giovanni Paolo II proprio il 22 ottobre del 1978 40 anni esatti fa cioè scendere anche noi tra la gente con la nostra croce evidente senza avere paura chiedendo di aprire spalancare le porte alla verità io credo che questo sia il nostro compito storico sia la missione affidata al popolo della famiglia sia ciò che deriva dalla straordinaria esperienza del mercoledì 17 ottobre del 2018 quando non a caso anche Papa Francesco ha ricordato le parole di San Giovanni Paolo II rivolte anche a noi lì presenti con la delegazione del popolo della famiglia che proprio pochi minuti dopo avrebbe pubblicamente salutato dal Sagrato di San Pietro prima di avere anche un incontro direttamente con me e con Silvia con tutti noi addosso diciamo perché eravamo esattamente tutti lì presenti io credo che questo sia il nostro lavoro il lavoro che dobbiamo compiere anche al di là ovviamente della dimensione politica anche se c'è la dimensione politica perché raccogliere consenso su questa piattaforma ci rendiamo conto credo che riusciamo a costruire una dimensione popolare di mobilitazioni intorno a questi temi a oggi 220.000 persone che hanno seguito il popolo e la famiglia domani speriamo molti di più grazie alla nostra mobilitazione noi andiamo avanti con la convinzione che si possa fare qualcosa davvero di importante lo stiamo facendo credo che sia evidente a molti che ciò che è avvenuto anche solo in questi pochi giorni sono passati cinque giorni dall'incontro col Papa sia qualcosa di estremamente forte di rilevante siamo stati per la prima volta in queste cinque giorni citati credo cento volte sui giornali che per il popolo e la famiglia è davvero un'impresa storica abbiamo avuto addirittura il servizio di Rai 3 per l'iniziativa di Milano con Mirko De Carli importante perché aggrega segmenti di cattolicesimo politico sparsi qua e là in vista delle elezioni europee si è avuta netta la percezione che l'unica realtà organizzata cristianamente ispirata nel panorama politico si chiama popolo della famiglia e non c'è altro e non ci sarà altro per le prossime elezioni europee dunque questa aggregazione è destinata evidentemente a crescere e il nostro lavoro serve a far davvero deflagrare questi temi che come lo ripeto non sono temi che scatenano odio scatenano il fatto che toccano proprio la piaga con il dito e toccando la piaga con il dito avete una reazione e questa reazione è quella che prova a travolgerci e prova a travolgerci nei meccanismi mediatici che vanno compresi attraverso l'azione del silenziatore ma se noi sappiamo rispondere senza avere paura l'iscatto e il non abbiate paura a questa azione che tenta di silenziarci con azioni non silenziabili come Milano come San Pietro come il convegno come l'iniziativa sul terzo settore fatta sempre dal pdf Lombardia come la nostra assemblea nazionale come la nomina dei nostri dirigenti nazionali con la nostra azione dunque territoriale noi possiamo entrare dentro questi meccanismi utilizzandoli anche a nostro favore compresi i meccanismi di falsificazione che alla fine se denunciati hanno la forza di far capire da che parte sta la verità perché poi la verità si può testimoniare molto semplicemente come dice Rita Mesiti hanno paura loro è verissimo hanno paura loro è così ci ritengono pericolosi bravo bravo Rita Mesiti Natalino Bonazza mi ricorda Don Natalino è un sacerdote mia madre 82 anni ci ha messo una manciata di secondi davanti alla tv per capire e reagire Don Natalino è un sacerdote fondamentale per la nostra azione nella zona di Venezia Mestre ed è così le persone reagiscono solo che non ci sono più i catalizzatori che fanno appunto la catalizzazione della reazione e noi dobbiamo semplicemente essere noi stessi e testimoniare le nostre idee come dice Mario Campanella qui in diretta Chiara dice vai così che sei un grande sono solo grosso amica mia c'è Ilaria Giurlani la verità vi farà liberi io vi ringrazio molto se questa puntata riuscite a fare un like per favore perché ci salviamo almeno negli algoritmi di Facebook se riuscite a trasmetterla a tutti gli amici che possono sentirla e tranne beneficio dunque a tutti gli amici su Facebook su Messenger su Whatsapp prendete il link e lo portate all'attenzione Andrea Brenna del PDF di Lombardia rivendica quanto abbiamo fatto sabato pomeriggio alla stazione metropolitana di Milano è ovvio che è un'attività che noi rivendichiamo è un'attività informativa che abbiamo fatto col presidio del territorio dobbiamo essere sempre più bravi a fare questo cioè attività informativa e presidio del territorio con buona comunicazione unendo questi fattori il nostro movimento non può che crescere questo è ovviamente un fine che ci riproponiamo di ottenere in vista degli appuntamenti che nei prossimi sei mesi ci vedranno protagonisti saluto anche Vito Pietro Loporcaro del PDF della Puglia che si è connesso in questo momento saluto Jacopo Pioli che ci scrive dalla Cina servono azioni come quelle di sabato saluto Don Massimo Lapponi un altro sacerdote seppure da lontano presentissimo con la preghiera e la partecipazione più sentita grazie c'è Salvatore Asero del PDF di Catania vedo insomma intorno a noi cominciare vedete più di un sacerdote che non solo segue la diretta ma interviene dando la solidarietà a me sembra che qualcosa sia cambiando nettamente ovviamente non posso leggere tutti i commenti che arrivano posso dirvi che c'è in questo momento collegato ogni comune d'Italia mi verrebbe da dire Danilo Lonardi PDF Roma Salvatore Asero PDF Catania Andrea Brenna PDF Como Piero Chiappano PDF Milano Mauro Chialastri tra l'altro ricorda il suo incontro con San Giovanni Paolo II Pietro Mauro Chialastri c'è Alessandra Mondelli PDF Novara Elena Di Pietro col simbolo PDF Elena Di Pietra scusate simbolo PDF non lo so riconoscere il comune poi c'è Flaviano Fortunato Stefano Tommaso secondo te Soros ha prezzolato i PD se l'ha prezzolato gli ha messi proprio male perché oggi ho visto il PD a Bolsano al 3% mi pare una cosa del genere al 30 un po' meglio al 14 ma stava al 22 quindi se l'ha prezzolato l'ha prezzolato male Maria Pia Pettolino PDF Reggio Emilia Emiliano Velasco PDF Siracusa Stefano Cardini PDF Ravenna Gerardo Astori PDF Messina Fabrizio Dele Piane PDF La Spezia ragazzi Dalilo Bassan PDF Padova Jacopo Pioli PDF Kingdao Cina e con questo saluto anche gli amici del Cammino Neocodocumentale che sono in partenza per Gerusalemme in questo momento abbiamo due cari amiche Barbara Moi e Francesca Centofanti tra i tanti in partenza per Gerusalemme un abbraccio forte Stefano Sigali PDF Forte Dei Marmi insomma siamo davvero è incredibile getto lo sguardo a tutti quelli che stanno arrivando nella diretta e vedo crescere davvero un PDF radicato in ogni comune d'Italia Rodolfo Zennaro PDF Venezia Gabriele Marconi PDF Bergamo dove venerdì comincia la scuola di Dottrina Sociale della Chiesa Patrizia Selvaggi la bella Silvia Lucchetti PDF Eritrea potrei mettere per differenziata dal fatto che in realtà è anche lei PDF Roma Rossano Giorello PDF Pinerolo Maria Luisa De Carlo PDF Lecce è impressionante è davvero fidatevi stando da questa parte vedere tutto questo che sta crescendo in maniera così capillare in ogni angolo d'Italia per davvero non con un'associazione senza iscritti come sono di solito certe associazioni particolare del mondo cattolico dove l'associazione serve esiste solo il capo e invece qui no in ogni angolo del paese potendo pure ormai fare a meno di me il PDF c'è e cresce questo è davvero straordinario e voglio bene a ciascuno di voi per questo Maria Rita Bonaccia Elisabetta Marraccini PDF Avezzano Anna del Guerre PDF Versilia adesso l'elenco diventa davvero infinito vi ringrazio molto vi ringrazio molto per l'attenzione a questa puntata fatela circolare perché abbiamo detto credo delle cose abbastanza rilevanti che sono utili al paese e svolgiamo il ruolo che ci compete che è quello di testimoniare la verità senza avere paura non abbiate paura San Giovanni Paolo II ci protegga in questa nostra azione oggi 22 ottobre del 2018 c'è anche il PDF Erice con Nicolò Marino il PDF Napoli con il buon Marcucci insomma adesso PDF Napoli rafforzato anche dalla presenza di Massimiliano Esposito che si è spostato da Mantova per andare al Napoletano prima era il PDF Mantova dove ricordo il buon Esposito ha raccolto un successo straordinario con il 15% raccolto a Goito c'è Domenico Trombino che ci segue c'è Antonio Bersanetti del PDF di Comacchio vi ringrazio davvero la nostra diffusione è massima e davvero diventata capillare in ogni provincia d'Italia PDF Forlì c'è Carla Lodi PDF Modena c'è Angela Umbriano PDF Padova c'è Patrizia Stile c'era pure Danilo Bassan salutiamo con una preghiera Monsignor Giancarlo Boretti un gran prete che si è appena spento a Milano una guida per molti Giancarlo Boretti un saluto e una preghiera dal popolo della famiglia per la sua importante missione per molti di noi in particolare a Milano mansueto umile innamorato di Cristo questo è il ricordo di Alberto Mori c'è anche Marco Cecca che ci scrive dall'Australia è già il secondo che ci scrive dall'Australia insieme a Andrew Clemens grazie davvero per la diffusione ormai intercontinentale del popolo della famiglia c'è Cristiana Di Stefano del PDF delle Marche davvero penso che abbiamo fatto il Giro d'Italia e oltre io per la puntata di oggi vi saluto vi chiedo di condividere a rifare un ultimo like alla diretta per favore un like per difendersi nell'algoritmo di Facebook una condivisione sul vostro profilo della diretta stessa e infine il link alla diretta lo prendete e lo mandate ai vostri amici Facebook Messenger e Whatsapp affinché lo svelamento dei meccanismi mediatici che producono falsità sia compreso pienamente e anche utilizzato come mossa di judo cioè usando la nostra debolezza dare il colpo d'anca che fa ribaltare la situazione ricordo la 19.30 oggi per la PDF di Vucce è dentro i fatti conduce Danilo Leonardi che vi aspetta ripeto ora è 19.30 dentro i fatti saluto Roberto Basilici PDF da casa mia saluto Patrizia Stille mandiamo il video del convegno di Roma accompagnato da una breve relazione saluto Daniele del PDF siciliano Ilaria Giurlani ci dice oggi alle 21 c'è una riunione del PDF Lucca Piera Giacometti saluta PDF Treviso vi ringrazio molto e vi abbraccio da Maria Di Norfi una buona giornata anche a Obretta Ridolfi a Vito Pietro Loporcaro che ricorda la prima sede del PDF speriamo che i nostri amici a Gerusalemme davvero nel muro mettano anche le intenzioni del popolo della famiglia da Maria Di Norfi una buona giornata a tutti voi ci vediamo domani con la puntata del martedì di stampa Evangelo e sempre che non me nasca la figlia in queste ore perché stiamo ballando davvero sul filo dunque un abbraccio a Flaminia Longobardi che dice mannaggia Mario mi fai sudare forza e coraggio a tutti voi ricordiamo la forza innestata in noi stessi da San Giovanni Paolo II il suo andare agentes durante la sua una volta si sarebbe detto intronizzazione il suo insediamento del 22 ottobre 1978 40 anni fa quando pronunciò le note frasi non abbiate paura aprite spalancate le porte a Cristo per poi regarsi davvero ad gentes con la croce innalzata per recuperare far restaurare in tutti noi anche l'orgoglio diciamo così anche il convincimento anche la piena capacità di essere pronti all'estremo sacrificio per la verità e per Cristo da Maria di Norfi una buona giornata a tutti voi ci ritroviamo domani ripeto se non ci sono grandi sorprese invece sul fronte procreativo che alla fine rimane sempre il primo fronte del popolo della famiglia ciao a Gisella Aderenti a Prisca Vegni e a tutti coloro che si sono connessi anche in quest'ultimo minuto della diretta di Stampe Vangelo grazie a tutti